Assessore Pisano, 23 famiglie di quarto potranno usufruire di voucher, che cosa sono? È un'iniziativa della Regione Campania che durante l'estate ha chiesto, ha dato una prologa, noi abbiamo aderito e su 80 persone che hanno fatto domande a noi erano solo delle caratteristiche di 23 persone. Che cosa succede? Che da gennaio in poi queste 23 persone saranno chiamate da comune per essere utilizzate in alcune attività come la pulizia delle strade, monumenti, attività caritatevole, quindi tutte quelle mansioni che prevedeva il bando della Regione Campania. Quanto prenderanno di stipendi queste persone? Stipendi è una parola un po' grossa, loro avranno per ogni voucher coperto da 10 euro, 2,50 euro sono coperte per l'assicurazione e aspetti pensionistici e 7,50 euro sono nette per ogni cittadino che avrà la possibilità di lavorare con i voucher. Quante ore al giorno dovrò fare? Sulle ore dobbiamo stare muovendo con il caposettore in base anche alle mansioni e a quello che le persone dovranno andare a fare sul territorio. Per quanti mesi? Fino a quando non sa, per quest'anno nel 2016. Per quest'anno nel fest'anno nel 2016. Grazie.